La Flores Multimedia ancora ben trovati, Mauro Ciutini in studio, codi a tratti sulla Firenze Pisa Livorno tra l'Astra Signa e l'allacciamento con la 1 in direzione di Firenze. Un controllo di velocità in A12 tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano. Sul raccordo Siena-Firenze ricordo che è chiusa l'entrata di Badesse per lavori, la direzione quella per Firenze, lavori fino al 16 di giugno. Lavori a Firenze fino alle 13 un divieto di transito da via Pescioni a via Tornabuoni per operazioni di monitoraggio della facciata di Palazzo Strozzi. È tutto per il momento, muoversi in Toscana grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. A più tardi.